Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il TG News 24, edizione delle 12. Caro carburante, situazione davvero complicata perché i prezzi stanno schizzando di nuovo alle stelle, mettendo in crisi il settore del trasporto, soprattutto chi con la macchina lavora, cioè taxi, NCC, chi svolge servizio di operatore con gli autobus, una situazione che richiede assolutamente di fissare un tetto al prezzo del carburante, altrimenti potrebbe esserci davvero la paralisi di questi servizi, in attesa che l'Agenzia delle Entrate consenta alle imprese di recuperare una parte delle accise sui carburanti dei mezzi con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate. Anche i taxisti, gli autoneleggiatori con conducente, i bus, gli agenti di commercio e i piccoli trasportatori sono allo stremo. Stiamo parlando dei cosiddetti professionisti della strada, con il gasolio per autotrazione che in questi ultimi giorni ha ormai superato i 2 euro al litro, molte attività lavorano in perdita. Se teniamo conto che per queste categorie il carburante incide per il 30% sui costi di gestione totali, a seguito di questi rincari il quadro generale è drammaticamente peggiorato. Ricordiamo altresì che nell'ultimo anno il prezzo alla pompa del diesel è aumentato del 50%, pertanto senza alcun aiuto questi operatori economici rischiano il fermo come sono stati costretti a farlo nelle settimane scorse. I peschericci di Chioggia e Manfredonia, sempre a causa del caro gasolio, a dirlo, è l'ufficio studi della CGA e ascoltiamo anche una dichiarazione di Paolo Zabè, che della CGA di Mestre è il direttore del centro studi. A causa del caro carburante, tassisti, bus operator, autonalleggiatori, agenti di commercio, piccoli trasportatori sono allo stremo e rischiano di dover lasciare il proprio automezzo in posteggio o in piazzale. Il governo intervenga subito, introduca un tetto al prezzo della benzina e del diesel, almeno fino alla fine dell'estate. Non possiamo aspettare l'Europa che, come con il gas, non sembra interessata a introdurre alcuna mitigazione al caro energia. Per quanto riguarda il gas, come sappiamo, Gazprom ha ridotto le forniture di gas all'Unione europea, ha comunicato a Leni che taglierà le forniture anche all'Italia, l'Italia si prepara a diramare un'allerta, un'allarme con un razionamento per quanto riguarda tutte le attività che prevedono l'utilizzo del gas, situazione che ovviamente dipende dal conflitto tra Russia ed Ucraina, dalle sanzioni che l'Europa, una risposta della Russia alle sanzioni che l'Europa ha imposto a Putin, che dunque risponde così, chiudendo i rubinetti del gas. Andiamo però a parlare ancora di caro prezzi, questa volta generale, perché l'inflazione continua a salire ed è un dato che preoccupa. L'inflazione accelera e tocca al massimo dalla fine degli anni 90, spinta ancora dagli energetici ma anche dagli alimentari. Così non solo le bollette e i carburanti ma anche la spesa si fa più cara. A maggio i prezzi al consumo registrano un aumento dello 0,8% su base mensile e del 6,8% su base annua, secondo il dato definitivo comunicato dall'Istat che Lima la stima preliminare. Dopo il rallentamento di aprile, l'inflazione torna ad accelerare salendo ad un livello che non si registrava da novembre 1990, sottolinea l'Istituto di Statistica. Per il carello della spesa bisogna andare indietro di 36 anni. L'andamento generale preoccupa famiglie e imprese. L'inflazione acquisita per il 2022, ovvero quella che si avrebbe con una variazione nulla nella restante parte dell'anno, risulta già pari a più 5,7% e resta il rischio di un'ulteriore salita almeno per tutta l'estate, afferma l'Ufficio Studi di Confcommercio. In forte crescita sono i prezzi del cosiddetto carrello della spesa. A farlo correre ci sono in particolare gli alimentari lavorati, che salgono del 6,6% in un anno. Rialzi che si traducono in una nuova stangata per le famiglie. Le associazioni dei consumatori calcolano un salasso che va dai 2.300 euro ai 2.700 l'anno per una coppia con due figli, secondo i dati dell'Unione Nazionale Consumatori e del Codacons, e che tocca il picco superando i 3.000 euro anni per il Trentino Alto Adige, dove l'inflazione corre di più. Andiamo avanti, adesso torniamo a parlare dell'omicidio, del femminicidio di Codroipo, ieri l'udienza di Convalida. Il GIP non si è ancora espresso sulla Convalida del Fermo, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore, ma c'è stato l'interrogatorio e Paolo Castellani ha ricostruito ancora una volta la sua follia omicida, il modo in cui ha ammazzato la moglie in casa, nella camera da letto. Sentiamo il servizio di Angela Caino. L'ha uccisa nella camera da letto, dove da un po' di tempo dormiva da sola, in attesa della separazione. Paolo Castellani, accusato dell'omicidio della moglie Elisabetta Molaro, durante l'udienza di Convalida del Fermo, ha confermato, quanto detto agli investigatori, mercoledì mattina, poche ore dopo l'omicidio della donna, quando è stato fermato nelle campagne di Codroipo, a qualche chilometro da casa, con i vestiti ancora insanguinati. Aveva confessato di averla uccisa con un coltello e anche di aver tentato il suicidio mentre vagava nei campi. Questo dopo essere scappato dalla casa di famiglia. Prima aveva chiamato il 112 e la suocera qui aveva chiesto di occuparsi delle due figlie di 5 e 8 anni. Un'udienza breve, quella di questa mattina davanti al giudice per le indagini preliminari in tribunale, a Udine, dove l'uomo è giunto dal carcere di Belluno. Il GIP si è riservato la decisione che è attesa nelle prossime ore. Ed è attesa anche per l'autopsia sul corpo di Elisabetta Molaro. La presenza di due figli minori allunga i tempi perché deve essere nominato un curatore speciale per loro. Intanto la comunità di Codroipo si è riunita ieri sera in preghiera, in Duomo. Doveva essere una festa, la festa del Corpus Domini, assieme all'arcivescovo Andrea Bruno Mazzoccato. È stato un momento per ricordare Elisabetta, ma anche tutte le persone coinvolte in questo dramma familiare. E adesso andiamo avanti a parlare di Electrolux e ancora di conseguenze che riguardano il conflitto tra Russia ed Ucraina, perché manca componentistica per assemblare gli elettrodomestici e dunque l'Electrolux è costretta a sospendere la produzione. Daniele Boltin. Continuano gli stop nello stabilimento Electrolux di Porcia a causa della mancanza di fornitura delle materie prime. Dopo due giorni di riduzione del gettito della linea 4, sono previsti nuovi blocchi per la prossima settimana, con molti operai che rimarranno a casa per tre giorni. Infatti il lunedì, martedì e venerdì sarà sospesa l'attività delle linee 2, 4 e 5 e resterà attiva solo la linea 1, ma con orario ridotto. Il problema dei rifornimenti va avanti ormai da mesi e colpisce vari stabilimenti della multinazionale svedese. In particolare la mancanza di cipe e schede elettroniche provenienti dall'Asia sta facendo lavorare a singhiozzo il sito di Porcia, dove si producono lavatrici di fascia alta. Una crisi degli approvigionamenti che è arrivata peraltro in un periodo in cui gli ordini non mancano. E la produzione a ritmo ridotto avrà anche effetti occupazionali. Complessivamente sono 130 i lavoratori con contratto a tempo determinato. Per 27 di questi la scadenza è fissata per il prossimo 30 giugno e vista la situazione, solo per qualche unità è prevista la trasformazione in tempo indeterminato. Per fare chiarezza sulla situazione anche lavorativa, è stato organizzato un incontro tra sindacati azienda che si terrà giovedì prossimo. Abbiamo parlato e tanto nelle settimane scorse dell'avvio della stagione estiva al mare che è la tipologia probabilmente più diffusa utilizzata dai vacanzieri per riposarsi durante questo periodo. Però c'è anche la montagna. Ieri abbiamo fatto un giro a Tarvisio con la nostra Angela Caino per capire come procede. 800 posti letto circa con un buon indice di riempimento fa sapere Confcommercio. Alcuni alberghi registrano già il tutto esaurito e a breve riaprirà anche lo storico Hotel Nevada. La stagione estiva a Tarvisio si apre sotto buoni auspici dopo due anni durissimi causa pandemia. A trainare la ripresa il cicloturismo con l'Alpe Adria sempre più frequentata in particolare da tedeschi e austriaci. Qualche italiano nel weekend. Cominciano ad arrivare anche turisti dai Paesi Bassi ci dice Francesco Baraldo dell'Hotel Tarvisio e qualche americano. La nostra unica opzione per il futuro estivo è il motore trainante. Penso che sia gran parte del PIL della nostra valle dai primi di maggio fino a metà settembre. Senza sarebbe tutto molto più difficile. E cosa si può migliorare? Solo un poca più di manutenzione, un poche più di informazioni, poi per il resto è un po' che erdà sia proprio servito. Una sosta di una notte per poi riprendere un viaggio a tappe già ben programmato. Cercano il contatto con la natura incontaminata, la tranquillità e il relax i turisti della Val Canale Canal del Ferro. Per soggiorni più lunghi gettonatissimi gli chalet di montagna. Sabina Moloro dell'Alpi Giulie Chalet Resort di Malborghetto Valbruna. Diciamo che fino a fine settembre siamo al completo quindi siamo molto soddisfatti. Prevalentemente clientela italiana, post covid abbiamo avuto un maggiore riscontro a livello friulano. Adesso pian pianino stanno tornando anche gli stranieri quindi abbiamo avuto ospiti dalla Norvegia, ospiti austriaci. La stagione sta ripartendo ma forse un po' con il freno tirato? Io ho constatato un ritardo nelle aperture delle varie strutture quali agriturismi, malghe, rifugi rispetto agli altri anni. Un po' può essere stato complice il freddo prolungato però noto un po' di ritardo anche la telecabina del Monte Lussari che è una delle nostre attrattive principali. Hanno deciso di farla ripartire appena questo weekend quindi questo non favorisce. Giovedì mattina alle 11.05 il cuore di Federico conosciuto fino a quel momento con il nome di Mario ha smesso di battere, ha attivato le procedure per il suicidio assistito primo italiano a ottenere il via libera del nostro paese. Federico aveva registrato un video affidato ai canali social e youtube dell'associazione Luca Coscioni, l'agenzia Anza lo ha pubblicato questa mattina, ve lo proponiamo anche noi. Ciao a tutti, ero Mario, sono Federico e quando vedrete questo video non ci sarò più perché finalmente dopo una battaglia che ho fatto da due anni potrò porre fine alle mie sofferenze. Ho fatto un incidente stradale a ottobre del 2010 andando a sbattere contro un casuttino e sono rimasto tetraplegico. Da quel momento la mia vita è cambiata completamente, non sento più niente del mio corpo dalle spalle in giù, ma ho fatto tutto per far sì che la mia vita fosse il meglio possibile. Però in questi anni ho avuto un continuo aumento dei dolori e delle supportazioni che io non tollero più sul mio corpo. La mia decisione del suicidio assistito l'appresi nel 2015, un pomeriggio parlando con mio padre mi chiese che prospettiva avevo per il futuro e gli dissi che finché riuscivo ad andare avanti sarei andato avanti e quando i dolori non sarebbero stati troppo forti avrei fatto di tutto per ottenere il suicidio assistito, se era possibile in Italia se non sarei andato in Svizzera. E nel 2020, a gennaio del 2020, incominciai a fare il testamento biologico e consegnai le dati in comune. Mi senti con la dignità e incominciai a fare tutta la documentazione per andare in Svizzera. Verso maggio-giugno ho ottenuto anche il semaforo verde e poco prima di partire per la Svizzera mandai un'email a Marco e lo ringraziavo per tutte le battaglie che stavano facendo e che sai e che io sarei stato l'ennesimo italiano costretto ad esiliare all'estere per porre fine alle mie sofferenze. E lui mi rispose Federico fai quello che vuoi però hai la possibilità di provare a farlo nel tuo paese. E così dopo pochi giorni contattai il segretario, l'avvocato dell'associazione Coscioni, Filomena Gallo e incominciammo la parte burocratica per cercare di ottenere il suicidio assistito in Italia. Essendo stato il primo in Italia ci ho messo 20 mesi e mi auguro che le prossime persone che ripercorrono la rima strada ci mettano molto meno tempo, perché 20 mesi per chi sta male e soffre sono veramente lunghi. Vi saluto a tutti, Mario e per chi mi conosce Federico. Ciao. Torniamo a parlare di guerra, perché la Nato ha confermato il suo impegno per continuare a fornire di armi, rifornire di armi l'Ucraina. In un recente intervento il segretario generale della Nato Stolteberg ha anche risposto al Papa che in un recente discorso aveva fatto capire che una parte della responsabilità di questo conflitto poteva ricadere anche sull'Occidente e sull'Alleanza Atlantica. Sentiamo il servizio. La Nato assicura di voler continuare a fornire aiuti senza precedenti all'Ucraina, così come è fatto sinora e giura di lavorare notte e giorno per riuscire a consegnare le armi promesse a Kiev. Il segretario generale Jens Stoltenberg si dice soddisfatto per quanto deciso dei ministri della difesa alleati riuniti a Bruxelles, nonché dalle soluzioni adottate dal gruppo di contatto patrocinato dagli Stati Uniti. A sorpresa però si è tolto un sassolino dalla scarpa. Incalzato sulle parole del Papa che in una recente intervista concessa ai direttori delle riviste dei Gesuiti nel mondo ha lasciato intendere una parte di responsabilità della Nato per la guerra in Ucraina, ha messo in chiaro. Sostenere l'Ucraina come abbiamo fatto non è una provocazione, la guerra è una scelta di Vladimir Putin. Stoltenberg ha poi salutato con favore la visita della troica europea a Kiev, più il presidente romeno definendola un importante messaggio politico e un segnale di solidarietà. Ma non ha voluto legare il viaggio di Emmanuel Macron, Mario Draghi e Olaf Scholz a nessun cambio di passo da parte dei tre grandi paesi europei. La Nato e l'Unione Europea hanno dimostrato di saper lavorare in tandem e anche se i tre leader non sono andati prima a Kiev hanno pienamente e a lungo sostenuto l'Ucraina. La priorità ora è quella di sempre, permettere al presidente Volodymyr Zelensky di vincere la guerra. E adesso il Covid che sta rialzando la testa, anche se va detto subito, i contagi stanno leggermente salendo, frutto probabilmente dell'allentamento di quasi tutte le misure di prevenzione, ma negli ospedali la situazione continua ad essere assolutamente sotto controllo. Gianni Rezza ha fatto il punto ieri dopo i dati del monitoraggio dell'Istituto Superiore della Sanità. Anche questa settimana tende ad aumentare, seppure lievemente, il numero di casi di Covid-19 nel nostro paese e il tasso di incidenza si fissa a 310 casi per 100.000 abitanti. L'RT è anche in lieve ripresa, siamo a 0,83, per fortuna però ben al di sotto dell'unità. Il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva è rispettivamente al 6,7 e all'1,9%, quindi stabile rispetto alla scorsa settimana e fortunatamente non c'è una tendenza alla congestione delle strutture ospedaliere. Considerato però che la velocità di circolazione virale è ancora relativamente elevata, anche laddove non è obbligatorio è bene sempre considerare l'uso di mascherine, soprattutto in presenza di forti aggregazioni ed è raccomandata la somministrazione della quarta dose in maniera particolare alle persone più anziane e più fragili. Adesso ho un comunicato della Polizia di Gorizia su un'operazione effettuata il 2 giugno scorso che ha portato all'arresto di un 44enne cittadino albanese per possesso di documenti di identificazione falsi denunciando l'autorità giudiziaria anche per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. L'attività effettuata dal personale della squadra volante della Questura ha avuto inizio nella mattinata del 2 giugno scorso quando un equipaggio in servizio di controllo sul territorio ha provveduto nei pressi del valico confinario di Sant'Andrea a fermare un veicolo proveniente dalla vicina Slovenia. Nel corso delle successive verifiche il ha fornito agli operatori una patente ed una carta di identità greche confermando al personale di Polizia le generalità elleniche riportate sui documenti che sono però parsi sospetti al personale di Polizia. Dai conseguenziali accertamenti effettuati congiuntamenti al settore di Polizia di Frontiera Terrestre di Gorizia entrambi i documenti sono risultati totalmente falsi e lo stesso conducente dinanzi all'evidenza dei fatti ha comunicato le proprie reali generalità. I documenti sono pertanto stati sequestrati, il 44enne è stato inoltre sottoposto a perquisizione personale estesa al veicolo dove sono stati rinvenuti due coltelli, entrambi con lama di 20 cm e lunghezza complessiva di 34, occultati sotto il sedile del conducente. All'esito delle operazioni pertanto il cittadino albenese è stato arrestato, la pena per lui prevede fino a due anni di reclusione, fino a cinque anni di reclusione per chiunque sia trovato in possesso di documenti falsi validi per l'espatrio. I coltelli rinvenuti nell'abitacolo sono stati sottoposti a sequestro penale e il possessore è stato segnalato all'autorità giudiziaria anche per violazione della legge 110-75, l'articolo 4 che punisce con l'arresto da sei mesi a due anni e con ammenda da 1.000-10.000 euro al porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Dopo l'udienza di convalida dell'arresto che si è tenuta il giorno seguente, quindi il 3 giugno, l'ufficio immigrazione della Questura ha posto in essere le pratiche per l'espulsione dell'arrestato, risultato infatti irregolare sul territorio nazionale e pertanto denunciato anche per questo reato. Un'intera giornata, quella di oggi, dalle 10 di questa mattina fino alle 20, dedicata al rapporto fra la birra Moretti, il Friuli e la comunità al Parco Moretti, presentato per la prima volta all'archivio collettivo, composto da immagini, oggetti e narrazioni, frutto di un anno di lavoro del progetto 30 anni senza Moretti. Sul prato del Parco è stato allestito uno spazio riservato a questo progetto, un archivio collettivo di immagini e narrazioni del rapporto tra l'azienda storica birra Moretti, i suoi luoghi e la sua comunità. Dopo un anno di ricerche e incontri sul territorio friulano, 30 anni senza Moretti, condividerà i primi risultati di un lavoro capillare e minuzioso, ispirato alla data che tra fine del 92 e inizio 93 vide partire l'ultima cisterna di birra da Udine, prima del trasferimento della produzione a San Giorgio di Nogaro. Sono infatti passati quasi 30 anni da quando lo stabilimento della birra Moretti di Udine, ha prodotto il suo ultimo litro di birra, ma il rapporto tra questa birra e i luoghi in cui è nata e cresciuta è vivo, perché nonostante a Udine ne sia sparita quasi ogni traccia, l'attività industriale fondata da Luigi Moretti nel 59-1859 ha lasciato un segno indelebile nella memoria delle persone. Apriamo la pagina sportiva, lo facciamo facendovi ascoltare l'intervista realizzata da Alessandro Surza con Pierpaolo Marino Fresco di rinnovo contrattuale per una stagione come direttore dell'area tecnica. Abbiamo selezionato la parte in cui Marino parla di Udogi tra le altre cose, perché si stavano diffondendo delle voci secondo le quali il laterale sinistro che ha fatto molto bene alla sua prima stagione in bianco-nero, giovanissimo, voci di interesse da parte di vari club per questo ragazzo. Marino ha specificato come stanno le cose, sentiamo le dichiarazioni del direttore dell'area tecnica dell'Udinese. Guarda, l'Udinese difficilmente ha venduto giocatori importanti dopo un solo anno in Friuli, questa è una strategia che i Pozzo hanno avuto sempre chiara e che io ampiamente condivido e se ti devo dire il mio parere personale, Udogi è vero, ha molte attenzioni, però non ha raggiunto ancora quei valori per cui sarebbe giusto venderlo e rischieremo di fare un errore clamoroso a venderlo sotto costo, mentre con un anno ancora con noi potrebbe dimostrare ancora di più il suo valore. Il punto lei l'ha citato prima, Pablo Marini, scadenza di contratto, lo sapevamo fin dal primo giorno che al 30 di giugno il contratto di prestito secco sarebbe scaduto. Devo dire che io penso che sia stata una bellissima eccezione che però non può diventare una regola che cioè l'Udinese vada a comprare giocatori dall'Arsenal, sia per i profili di ingaggio che per i profili di costo del cartellino. Per cui è stata una bellissima parentesi con Marini ma è un'operazione che deve essere considerata una felice operazione che ci ha permesso di completare bene la squadra a gennaio. Marini rimane un giocatore che abbiamo apprezzato, abbiamo stimato, gli vogliamo anche bene, però non la vedo come un'operazione tecnicamente facile per l'Udinese. Poi volevo chiarire anche un'altra cosa per quanto riguarda Naouen Perez, perché leggo di tutto. Allora è forse giusto chiarire che attualmente Perez è un giocatore dell'Udinese perché qualche giorno fa abbiamo deciso ovviamente di opzionare il secondo anno di prestito quindi di esercitare il diritto di opzione per il secondo anno di prestito e da qualche giorno fa l'Atletico Madrid ha la possibilità di controriscattarlo fino al 30 giugno però attualmente questo controriscatto non c'è stato ancora quindi Naouen attualmente è un giocatore dell'Udinese e se poi lo controriscatteranno avremo fatto un'altra felice operazione perché si sarà risolta con un beneficio economico per il club e con un giocatore che ci ha dato immediatamente un apporto tecnico importante. E dunque queste le dichiarazioni per Paolo Marino sia su Doji e che è giusto chiarire anche la posizione di Paolo Marino, difficile la sua permanenza a Udine non difficile tutt'altro la permanenza di Perez visto che l'Udinese ha esercitato la sua opzione per un prestito di un'altra stagione ma c'è fino al 30 giugno la spada di Damo che le mettiamola così dell'Atletico Madrid che potrebbe richiamare in Spagna il difensore ovviamente non eviteremo aggiornati su questo e altro per quanto riguarda il mercato bianconero. Siamo giunti al termine di questo telegiornale, prima però voglio mostrarvi quelli che sono i programmi principali della giornata. Oggi intanto non mancherà l'appuntamento con i ragazzi del City Camp perché questa sera regolarmente alle 20.45, alle 22.15 ci sarà lo spazio dedicato all'ultima giornata quella nella quale i ragazzi mostrano ai genitori quello che hanno imparato nella settimana di lavoro con i tecnici bianconeri e dunque anche oggi la possibilità di vedere all'opera i bambini del City Camp prima settimana che si conclude oggi, dal lunedì si parte con la seconda c'è il tutto esaurito sia per la seconda che per la terza così come lo era per la prima settimana grande successo dunque per i City Camp. Gli altri programmi di oggi li vedete, abbiamo spazio per i motori alle 14 con Safedrive, poi i nostri telegiornali con l'ora di informazione dalle 19 alle 20 e questa sera continua il ciclo dei documentari storici dedicati alla seconda guerra mondiale, in questo caso con la grande battaglia delle Ardenne documentario che andrà in onda alle ore 21, alle 23 e 30 invece riproporremo la puntata di Proibito che abbiamo mandato in onda per la prima volta come primo passaggio lunedì alla stessa ora. Da questa sera ma da domani mattina in forma ufficiale Udinese TV sarà in alta definizione quindi passeremo dalla definizione standard all'alta definizione all'HD a partire da domani è stato completato il passaggio al nuovo digitale terrestre e adesso siamo pronti anche per questo ulteriore step, si passa all'alta definizione, non cambia nulla per quanto riguarda il numero di telecomando, siamo sempre sul 12 e saremo semplicemente più belli. Grazie per averci seguito e adesso vi lascio alle previsioni del tempo a cura di Trebimeteo. Amici di Udinese TV bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebimeteo per la giornata di sabato che per quanto riguarda Fruiri Venezia Giulia sarà una splendida giornata estiva però con il caldo che si farà sentire, non caldo eccessivo ma è 30 gradi, lì supereremo quindi ci sarà da sudare. Entriamo più nel dettaglio, Pordenone e Udine temperature massime diciamo oltre 30 gradi arriveranno forse anche a 32-33 all'ombra quindi al sole anche qualcosina in più però grazie a un pochino di vento da est cala un filino l'umidità. Tra Gorizia e Trieste situazione del tutto analoga con anche qua temperature estive quindi anche qua ci sarà da sudare però ripeto un po' di vento specie al mattino e quindi giornata un po' più piacevole. Vi anticipo invece che domenica il caldo si intensificherà. Per sapere in ogni caso nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi consultate l'app gratuita di Trebimeteo. Grazie a tutti.